Ben ritrovati a tutti a questa seconda parte della serie di video che riguardano il corso sulle espressioni regolari e che si occupa della sintassi e delle funzionalità, insomma del dizionario di tutti i comandi e di tutte le particolarità che le espressioni regolari ci mettono a disposizione per trattare i nostri testi. E filtrarli un po' in tutte le salse. Allora, partiamo subito parlando di gruppi e quello che io ho tradotto come sguardo avanti. L'originale in inglese è Groups and Look Around, però ho preferito così anche un po' per il tipo di funzionalità. Personalmente ho preferito tradurlo con sguardo avanti. Poi voi fate la vostra traduzione se non vi piace questa. Vi metto comunque qui fra parentesi l'originale in inglese come riferimento. Cosa si intende con gruppi? Quindi i gruppi di caratteri si creano, come vedete qui, usando le parentesi rotonde. Ecco, come avete già visto nel video precedente, le lettere ABC che io metto qui fra parentesi sono sempre solo un esempio. Non è che il comando è questo compreso l'abc, ma questo interno è il contenuto che dovete metterci. In realtà il comando sono le due parentesi tonde. E le parentesi tonde appunto definiscono i confini di un gruppo. E non è che in sé si differenzia dal cercare dei caratteri senza parentesi rotonde. Tipo, vediamo un po', io scrivo una. E ormai sappiamo che scrivendo una così, senza nessuna simbologia, solo le tre lettere, i tre caratteri, diventano una stringa da cercare, una sottostringa, una sequenza di caratteri da cercare nel testo. In effetti vedete che vengono evidenziate tutte le triplette di caratteri una in fila all'altra, perché le abbiamo scritte una in fila all'altra. Ecco, mettendoci, e vedete che ci sono cinque corrispondenze, cinque matches, cinque corrispondenze in tutto questo testo nostro di prova. Se io ci metto le parentesi tonde attorno, non cambia niente come risultato. Ed è vero perché poi è la stessa cosa, non è che le parentesi tonde influiscono sul risultato del filtro. Quindi sono sempre cinque matches, sono sempre cinque le sequenze di caratteri una trovate nel testo. E la differenza, dove sta, direte voi, perché, cos'è questo scopo di questi gruppi? E lo vedremo fra un attimo, perché i gruppi si possono riferenziare più avanti in un'espressione regolare più complessa. Vedete qui nel riquadro explanation, che già vi dice capturing group 1, e che vi segnala, ha riconosciuto le parentesi tonde, che appunto ci permettono di, ci hanno permesso di definire un gruppo. Per il momento è lì da sole, non è che serva granché da sole. Il valore aggiunto lo vedremo fra un attimino. Ecco, vediamo un po' cosa dico qui, se c'è qualche nota interessante, che poi tra l'altro, come sempre in questi corsi, tutte le scalette ve le lascio da scaricare, nella descrizione dei video, quindi tutto quello che vedete qui scritto, anche se no non leggiamo direttamente adesso, durante il video, potete farlo tranquillamente per conto vostro. Chiusa parentesi. Ecco, a differenza delle classi di caratteri, con gli insiemi di caratteri da cercare, messi fra parentesi quadre, quelle che abbiamo visto, e spiegato a fondo nel video precedente, dicevo, a differenza di queste, con le parentesi quadre, qui si devono mettere degli spezzoni di testo, così come si vuole trovare il testo, così nella sequenza corretta. Quindi abbiamo visto le parentesi quadre, che hanno la loro funzionalità, di raggruppare i singoli elementi da cercare, qui le parentesi tonde non fanno nient'altro che dare un contorno ad una stringa, ad una sequenza di caratteri da cercare. Ecco, qui ancora una volta con il mouse ho fatto disastri, teniamo lì il nostro insieme. Va, ecco. Vediamo un po', ogni gruppo da sinistra, ecco, e qui comincia ad apparire il valore aggiunto, ogni gruppo da sinistra verso destra, ovvero qui nella mia espressione regolare, ho un gruppo solo, ma potrei anche averne dieci di gruppi qui in fila, eh, da cercare. E possiamo anche vederlo, perché no, cerco il solito no, chiudo, e in questo momento non trova corrispondenze, perché non c'è da nessuna parte nel testo una sequenza di caratteri che corrisponda a una immediatamente seguito da gnu maiuscolo, non c'è. E giusto per fare un esempio, farvi vedere che li trova, ci metto una LA qui, eh, facciamo un gruppo LA, vediamo un po' se ce la faccio a scriverlo, no, non me lo prende con il mouse, dove è finito il cursore? Qua, ecco. LA, non me lo trova LA, perché manca lo spazio in mezzo, se io faccio così, vedete che la GNU, a questo punto, qui sopra coincide, e me le trova, nove corrispondenze, nove mecis. Questo era solo per ribadire il concetto, e quindi sto cercando due sequenze di caratteri, LA e GNU, separate da uno spazio, adesso sì che me le trova. Ho creato nel contempo due gruppi, il gruppo LA, il gruppo GNU, come dico qui, ogni gruppo da sinistra verso destra viene indicizzato a partire da uno, quindi LA è il gruppo uno, GNU è il gruppo due, e nell'explanation, questo ci viene confermato, vedete, first, uno, capturing group LA, second, due, capturing group GNU, quindi uno e due. E questo diventa comprensibile vedendo appunto cosa ci serve questa indicizzazione dei gruppi. l'indicizzazione dei gruppi ci serve per delle ricerche particolari, per creare dei filtri particolari, per esempio, e come si fa a referenziare un gruppo? La sintassi è questa, barra rovesciata con l'indice del gruppo, ecco, ancora una volta qui ho messo un esempio, quindi questo 1 vuol dire indice 1, non è che il comando sia questo, in realtà il comando è una barra rovesciata con il codice numerico dell'indice del rispettivo gruppo, ecco, in questo caso, barra rovesciata 1 vorrebbe dire riferenzia il gruppo 1 LA, questo qua, eh. Cosa succede? Che io, nella composizione dell'espressione regolare, posso mettere da qualche parte un riferimento con la barra rovesciata al gruppo tal dei tali, in questo caso LA. non trova corrispondenze, perché non trova corrispondenze? Perché non c'è nel testo nessun posto nel quale c'è la sequenza di caratteri LA seguita da uno spazio, seguita da una sequenza di caratteri GNU seguita da uno spazio e il riferimento all'LA di nuovo. Quindi non c'è nessun, nessuna composizione di questo tipo in questo testo. Questo, barra rovesciata 1, sarebbe come fare la stessa cosa così, sarebbe come scrivere questa stessa cosa. Adesso, ecco, questo è la stessa cosa di usare il riferimento al primo gruppo. ma per renderci le cose più facili, snelle, concise e dinamiche, le espressioni regolari prevedono appunto questi riferimenti che in inglese vengono chiamati back reference, ovvero riferimenti all'indietro, nel senso che qui io mi riferisco a un gruppo che precede, quindi diciamo così nel concetto indietro, quindi vado indietro, il numero 1, cerco il gruppo 1 è questo e capisco che si riferisce a questo. Dicevo appunto non c'è una stringa di carattere di questo tipo nel testo. Proviamo a fare un esempio, qui ho truccato prima di iniziare a registrare questo video, ho truccato il testo in modo da creare facilmente un esempio di questo tipo qua, giusto per mostrarvi come funziona il riferimento di un gruppo. Vedete che qui in questa frase c'è scritto la spazio gnu spazio gpl spazio gnu e quindi abbiamo potenzialmente uno stesso gruppo che si ripete qua con in mezzo gpl quindi ricreiamo l'esempio per mostrare appunto in pratica come quindi facciamola facile in mezzo ci metto gpl gpl uno spazio e ancora non me lo trovo perché in realtà gnu non è il gruppo 1 quindi qui mi sto riferendo al gruppo la ma io devo riferirmi al gruppo numero 2 quindi invece di 1 ci devo mettere 2 ed ecco che magicamente un match mi trova una corrispondenza perché è facile a questo punto è chiaro a tutti c'è la spazio la spazio gnu il primo gnu spazio gpl spazio riferimento al gruppo gnu riferimento alla stessa sequenza di caratteri del gruppo 2 eccolo qua back reference al gruppo 2 perfetto e qui come sempre sulla destra c'è l'explanation che vi spiega quello che vi ho detto a voce adesso e qui vedete che back backslash ovvero barra rovesciata 2 cerca le corrispondenze dello stesso testo contenuto nel gruppo 2 vedete proprio spiegato in inglese ma quello che vi ho detto io adesso in italiano è il gruppo 2 voilà quindi avete capito il giochetto dei riferimenti ai gruppi i riferimenti a posteriore dei gruppi quindi i gruppi si creano con le parentesi tonde qui metto già una nota per capire ancora di più il valore aggiunto di questi riferimenti dei gruppi i gruppi sono molto utili poi nelle sostituzioni laddove per esempio si possono riposizionare a piacimento questi gruppi facendovi il riferimento con la barra rovesciata e l'indice corrispondenze quindi finora in questo momento stiamo usando stiamo iniziando a creare le nostre piccole espressioni regolari per filtrare per mettere in evidenza parti di testo ma poi una volta che altro filtro cosa ce ne facciamo per esempio possiamo modificare la struttura del testo la forma del testo tramite delle sostituzioni nel testo medesimo e grazie a questi gruppi è poi facile anche modificare la posizione di determinate parti di testo grazie a questi riferimenti dinamici con il loro indice rispetto ai gruppi e lo vedremo fra un attimo anche questo è previsto in questa scaletta di questo video di vedere proprio questa cosa delle sostituzioni per capire meglio quello che ho detto adesso anticipando un attimo i tempi per il momento però andiamo con ordine meglio finire il discorso sui gruppi e sui riferimenti degli sguardi avanti e qui arriviamo a delle particolarità di gestione dei gruppi perché questo è il gruppo e ci sono anche delle opzioni nelle modalità di creare questi gruppi per esempio se ci mettiamo questa sintassi il punto di domanda seguito da due punti e dal nostro gruppo imposta appunto questa sottostringa da cercare ma non crea il gruppo quindi se io ci aggiungo questa sintassi due punti vedete vedete che l'interprete dell'espressione regolare mi dice che c'è un errore perché la barra rovesciata due si cerca un riferimento a un gruppo che non esiste perché non esiste perché ho appena detto che questa sintassi punto di domanda due punti evita di creare il gruppo anche se io metto fra parentesi questo GNU non risulta come gruppo quindi come indice di gruppo in questo momento solo il primo LA che è ancora effettivo questo secondo gruppo perché per qualsiasi svariato motivo a me non serve creare quel gruppo qua posso metterci questa sintassi appunto punto di domanda due punti questo vuol dire che se mi creo così ops se mi creo questo gruppo giusto per a questo punto e questo l'indice 2 vedete che non c'è più l'errore nella espressione regolare perché abbiamo il gruppo 1 che è questo il gruppo 2 che è questo questo e mezzo è vero che è in formato di gruppo ma non è considerato come gruppo e quindi gli indici sono due il secondo indice adesso è questo ovviamente così non mi trova non mi trova nessuna stringa nessuna parte di testo che sia la gnu gpl e ancora una volta gpl non c'è è un esempio di questo tipo quindi no match però questo era solo per farvi capire che questa sintassi evita di far considerare questo gruppo queste parentesi tonde come un gruppo quindi non vengono viste dall'interprete delle espressioni regolari ecco che qui torniamo alla normalità togliamo pure anche questo gruppo che non ci serve eccoci qua e ritorniamo a distinguere questa stringa nel nostro testo un'altra variante è il punto di domanda però con l'uguale cosa fa questo punto di domanda con l'uguale imposta sempre quella famosa sottostringa ma non la include nel risultato quindi viene incluso solo quanto specificato prima della sottostringa indicata qua dentro e questo ecco qui che arriviamo al famoso sguardo avanti o look ahead questa operazione appunto è definita look ahead o sguardo avanti perché perché l'interprete delle espressioni regolari come dire va avanti a vedere se esiste questa stringa abc se la trova grazie alla sintassi impostata punto di domanda uguale se trova la stringa abc dice ok c'è quindi ti metto in evidenza quanto precede la stringa la parte di testo che precede l'abc ma non l'abc stesso quindi lo esclude in questa situazione che abbiamo impostato qua vedete che è tutta evidenziata la stringa qua sopra la gnu gpl e di nuovo gnu è tutta evidenziata se io in questo secondo gruppo ci metto il punto di domanda con uguale non viene considerato come gruppo e eh questa cosa non funziona giusta con questo esempio quindi ecco qui avevo messo un esempio che funziona perché qui altrimenti ragazzi se andiamo a cercare nel testo fortuna che l'avevo eh questa prima parola è proprio questa vedete questa impostiamo appunto il gruppo come abbiamo messo qua e quindi ricominciamo con un nuovo esempio perché quello lì con le sigle nu gpl è un po' più difficile da impostare cioè si vede è meno evidente quello che voglio spiegare ecco più che altro quindi ops questa questa punto di domanda uguale di a quindi tra l'altro appunto se vogliamo avere un valore aggiunto eh dell'esempio precedente prima che io lo cancellasse avete visto che ha dato un errore perché il punto di domanda comunque evita che queste parentesi tonde vengano considerate come un gruppo avete visto non c'era più il riferimento alla sigla GNU perché col punto di domanda sparisce il gruppo in poche parole non viene visto dall'interprete e non so se qui nella scaletta francamente non mi ricordo se ho accennato questa cosa sguardo avanti ta 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 quindi cerca la sottostringa eccetera eccetera il gruppo ok quindi non non è indicizzato appunto viene confermato che col punto di domanda in realtà il gruppo non viene indicizzato eh però passiamo e torniamo al nostro punto qui quindi punto di domanda uguale cosa vuol dire dicevo sguardo avanti perché cosa succede ecco il l'interprete dell'espressione regolare cosa fa cerca prima di tutto in tutto il testo questa sequenza di caratteri sottostringa e qui non ci sono dubbi ormai lo conosciamo adesso c'ha in tutto il testo ci sono due situazioni di questo tipo vedete due matches e infatti c'è quest e quest vedete che c'è poi abbiamo detto guarda come dire guarda avanti se dopo la s seguono le due lettere t e a se è il caso mettimi in evidenza solo questa parte precedente ma non considerare il t a poche parole ecco quindi se io vediamo un po' se io tolgo la sintassi punto di domanda uguale in questo modo con un normalissimo gruppo composto dalla sequenza di lettere t a unito senza spazio né niente alla stringa precedente q u e s praticamente mi cerca questa vedete che mi mette in evidenza tutta la parola questa e questa due volte dove c'è perché è quello che gli dico di cercare se io metto il punto di domanda uguale gli dico guarda mettimi in evidenza solo quanto precede in effetti è quello che fa q s q s ma il t a non appare nel filtro non è considerato dal filtro di questa espressione regolare ecco questo è lo scopo del punto di domanda uguale oltre ripeto a non creare il gruppo dove c'è il punto di domanda il gruppo non viene indicizzato l'ultima e l'ultima questa sì è l'ultima alternativa con il punto di domanda per quanto riguarda i gruppi gli sguardi avanti questo è un altro tipo di sguardo avanti invece dell'uguale ci mettiamo il punto di domanda punto esclamativo punto esclamativo di solito nei comandi da terminale o così è quello che viene usato per negare qualcosa e anche qui è la stessa cosa quindi imposta l'ospezione di stringa o sottostringa da non trovare quindi è il punto esclamativo che proprio dice questo ABC non deve esserci è un po' il contrario di questo sopra perché qui diciamo cercami dove c'è l'ABC e a parte il fatto di non considerarlo nel risultato del filtro ma deve esserci l'ABC per mettere in evidenza quanto precede questo comando invece qui è il contrario cerca la parte di stringa che precede questo comando ed evidenziala solo se non è seguita da ABC praticamente è il contrario di quello di prima vediamo un po' se c'è un esempio già impostato ERTA vediamo un po' ERTA provo a impostare questo esempio visto che se l'ho messo vuol dire che avrò la situazione ecco qua allora addirittura 60 corrispondenze ci sono quindi cosa dico con questa espressione regolare cercami mettimi in evidenza tutte le sequenze di caratteri ER e attenzione guarda avanti se dopo ER seguono le lettere TA se è così non mettermi in evidenza ER perché non lo voglio se sono seguite da TA voglio tutte le sequenze ER che sono seguite da tutt'altro in effetti se guardiamo le occorrenze che sono state evidenziate qui nel testo vediamo che c'è la sequenza ER di sicuro è messa in evidenza ER dappertutto sono 60 vedete sono tante e però se fate caso le lettere i caratteri che seguono ER non sono mai T e A vedete ER seguite da AL seguite da MI da IA da SI da E puntino da A spazio AL ma MAI TA e questo è proprio lo scopo di questa sintassi dei gruppi delle espressioni regolari giusto per vedere a occhio che cambia il risultato del filtro adesso mi è difficile trovare nel nel testo un una sequenza di caratteri ERTA così a occhio non lo vedo dov'è un ERTA che non è evidenziato proprio per quello che non lo vedo quindi io farei cambierei per esempio questo dico non mettermi in evidenza le sequenze ER che sono seguite da MI per esempio quindi state attenti a questa sequenza qua quindi invece di T A io metto MI e vedete che le altre occorrenze sono sempre evidenziate ma le ER di questa parola in termini non è più evidenziata non è più considerata dal risultato del filtro perché ER seguito da MI e quindi questo punto esclamativo MI dice evitalo perché è proprio quello che ho bisogno io tutti gli ER ad eccezione di quelli seguiti da MI e questo è lo scopo di questa ultima combinazione di sintassi per i gruppi e gli sguardi avanti cambiamo capitolo e passiamo ecco fatto l'esempio passiamo ai quantificatori e quello che ho tradotto come alternanza quindi quantifiers and alternation l'originale in inglese cosa sono questi quantificatori e cos'è l'alternanza adesso lo vediamo prima i quantificatori allora il simbolo più il primo quantificatore cosa fa il simbolo più verifica che esistano una minimo una una o più occorrenze del carattere che precede il più per esempio l'espressione regolare seguente a M più mettiamola pure qua a minuscolo M minuscolo vedete che ne trova 17 di corrispondenza e quindi ce n'è e facciamo un più cosa succede non so cosa succede vediamo un po' cosa succede sempre 17 occorrenze ma attenzione tolgo il più ok rimetto il più è così voilà non so se avete visto qui per esempio in questa parte di testo cosa è successo praticamente cosa abbiamo detto che il più funge da quantificatore nel senso che verifica appunto che esistono al minimo una o più di una occorrenza del carattere che precede quindi cosa cosa diciamo con questo esempio cercami nel testo la sequenza di caratteri A M ma in più con questo simbolo più scusate il gioco di parole per quanto riguarda la M quindi il carattere che precede per quanto riguarda la M verifica che ce ne sia almeno una ma anche che ce ne siano di più e mette in evidenza queste situazioni e qui vedete che senza più tolgo un attimo il più ce la faccio sì tolgo il più vedete che per esempio le parole programmatore programma 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 sono evidenziate in questo momento con A e una M A M A M A M A M perché è quello che gli ho detto di fare cerca tutti gli A M se aggiungo il più a questo punto dove c'è la sequenza la stringa A M resta A M ma programma adesso è evidenziato le due M programmatore programma programma sono evidenziate le due M perché gli abbiamo detto con il quantificatore più di includere nel risultato del filtro di questa espressione regolare anche più M se ce ne sono e può essere anche più di due cioè se noi scriviamo che ne so la parola mamma vedete che c'è A M con due M e viene evidenziata ma se io mamma mi scappa al dito e continuo a scrivere delle M vedete che quel più lì all'infinito continuerà a evidenziarmi man mano ogni M che io aggiungo perché gli ho messo il più quantificatore ok ecco perfetto vedete la differenza e questo è il quantificatore più il quantificatore asterisco differisce se vogliamo leggermente dal più perché invece di verificare che ne esistano una o più occorrenze l'asterisco verifica che ne esistano zero quindi o nessuna o più occorrenze nessuna una due dieci occorrenze quindi se invece del più io ci metto un bel asterisco le corrispondenze aumentano drasticamente a 266 perché perché cosa abbiamo detto con questa espressione regolare cercami tutte le A del testo seguite da attenzione da 0 o più M quindi mi mette in evidenza anche tutte le A da sole vedete questa una ufficiale ufficiale c'è la A che è seguita da una L che non c'entra niente con la M ma siccome l'asterisco dice a me sta bene in questo filtro che ci siano anche 0 M ovvero che non esista una M che dopo la A non segua necessariamente una M ma qualsiasi cosa lui mette in evidenza tutte le A laddove ci sono anche delle M benvengano e vengono evidenziate anche tutte le occorrenze delle M vedete che la parola mamma qua è esattamente evidenziata come se avessimo usato il più come quantificatore perché all'asterisco sta bene che ci siano le M io ho detto che dopo la A può anche seguire una M ma non necessariamente e quindi vengono evidenziate tutte le A e in più sicuramente le A seguite da una o più M ecco quindi questa differenza tra il più che obbliga ad avere almeno un'occorrenza del carattere con l'asterisco che rende opzionale quel carattere oppure li va a cercare tutti ecco questo è il secondo quantificatore bene